Come legge CNA il rinvio dell'insediamento del consiglio camerale della Camera del Sud-Est, cioè l'accorpamento Siracusa-Catania-Racusa? Indubbiamente come un fatto positivo perché per la prima volta viene data attenzione vera a quanto viene denunciato da noi ormai da tempo. C'è un senso di discontinuità rispetto a un percorso che appariva ormai ineludibile ma in realtà figlio di errori macroscopici difficilmente ipotizzabili come casualità. È un contesto in cui la manipolazione dei numeri è assolutamente evidente. Quindi se da un lato mettiamo questo percorso che è assolutamente non giustificabile, non giustificato e dall'altro una novità normativa che ha rimodulato il senso e il ruolo delle Camere di Commercio che all'inizio sembrava quasi essere marginale e oggi invece viene riproposto con forza e con il grande protagonismo dei territori. Forse è il momento buono finalmente per puntare i piedi e dare valore a un territorio che come tutti sappiamo sta vivendo una stagione di continui scippi e sicuramente quello della Camera di Commercio può essere, almeno fino ad oggi, uno dei temi più vitali per l'economia del territorio. Perché è così importante evitare di finire accorpati con Catania per la Camera di Commercio di Siracusa? L'accorpamento originario, questo è chiaro a tutti, fu fatto su un disegno del distretto del sud-est che vedeva Siracusa protagonista. È assolutamente inconcepibile che questo finisse per avvenire con delle modalità, diciamo poco trasparenti per utilizzare un eufemismo. La verità è che con il nuovo disegno questo può non essere più necessario, si può dare il protagonismo a Siracusa in rete con gli altri territori, ma partendo dal presupposto che è un territorio frontaliero con una grandissima zona industriale, che ha percentuali di export molto più ampi rispetto agli altri e il procedimento che è stato effettuato per l'accorpamento delle Camere non ha mai tenuto conto di questi aspetti, anche per i settori economici che costituiscono il nuovo Consiglio Camerale che a questo punto speriamo non si insedi, proprio per dare corso a un nuovo modo di intendere la rappresentanza delle imprese. Non è una questione di poltroni come qualcuno vuol far apparire, è una questione proprio di interessi delle imprese nel territorio, è proprio quello che si sta facendo in questo momento. Cioè Catania con i suoi numeri più pesanti avrebbe finito per incidere anche sulle scelte siracusane? Ma questo alla fine in una logica distrettuale ci poteva anche stare, il tema è che per come è strutturata adesso la norma, che dà finalmente anche un grande protagonismo alle Camere di Commercio, non è più depotenziata come appariva prima, ma ci sono grandi temi sul turismo, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla capacità anche di internazionalizzare le imprese, per cui c'è una ripresa di valore nei ruoli della Camera di Commercio e a questo punto il nostro territorio ha caratteristiche e peculiarità che non possono essere diluite in un ambito molto più ampio, al quale noi non guardiamo con disprezzo perché alla fine le aree vaste vanno perseguite e la nostra è un'associazione che su questo ha fatto grandi valori progettuali. Però è chiaro che questo non può avvenire a discapito di un pezzo di territorio che oggi rappresenta un pezzo fondamentale di PIL della Sicilia e quindi le scelte vanno ponderate e condivise senza limitare la capacità di azione di un territorio che noi abbiamo già detto anche nell'ambito dell'eolocippo della Port Authority è un territorio maturo, Siracusa è stata capofila in tutto questo percorso anche di condivisione di intenti e di obiettivi con Ragusa e Catania. Non è assolutamente ragionevole che da traino di un percorso virtuoso finisce per diventare l'ultima carrozza di un treno che va verso Lidi che a noi assolutamente interessano poco. Siracusa alla fine si accorperà con Ragusa? Questo è l'auspicio perché è il vero territorio omogeneo, non nascondo il fatto che ci sono le condizioni normative affinché rimaniamo da soli, questo non è un semplice ragionamento campanilistico, ma è chiaro che se la prospettiva è quella di essere, utilizzano un termine banale, diluiti rispetto a logiche che non sono le nostre potremmo anche immaginare di andare da soli, però certo l'omogeneità territoriale, le caratteristiche economiche con Ragusa raccomanderebbero un ragionamento posto con loro, se poi gli amici ragusani non intendono perseguire logiche virtuose per il mondo delle imprese ce ne faremo una ragione. Sarà il TAR a decidere, l'ultima parola, aspettare ai giudici amministrativi o la regione può ancora incidere su questa vicenda? La regione può incidere ma ho paura che alla fine come sempre in un momento storico in cui i giudici determinano e dettono anche ai tempi delle agende sia poi il TAR effettivamente a dare un significato a tutto questo ambaradan. Noi siamo convinti che il TAR darà le giuste risposte rispetto a un processo che è stato viziato sin dal primo momento con un arbitro che non ha fatto l'arbitro e in virtù anche della riforma normativa potremmo avere ragione di una, molti l'hanno chiamata guerra, comprendo anche la difficoltà di seguire percorsi così irti di comunicati continui fra le parti però il dato è ineccepibile che eravamo e siamo in presenza di un modo di gestire e quantificare i numeri sulla rappresentanza che è illogico per non utilizzare altri termini e quindi oggettivamente siamo fiduciosi nell'operato del giudice amministrativo e anche della magistratura ordinaria perché non dimentichiamo che alcune azioni a nostro giudizio hanno anche forte rilievo penale.